Voglio mandare come sempre un abbraccio forte a voi che mi seguite sulla pagina Facebook Salvo la Rosa Official e lo faccio stamattina da un posto particolare perché a 57 anni ho deciso di tornare a scuola, proprio così, ma è una scuola particolare perché è una scuola dei mestieri, si chiama Eris Formazione, voglio presentarla anche a voi, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi che sono in uscita dalla scuola media, quindi ragazzi e ragazzi tra i 13 e i 17 anni e quindi approfitto della consulenza della dottoressa Carmen Scandurra che proprio qui a Eris Formazione si occupa dell'orientamento, quindi di dare ai ragazzi anche la possibilità di un futuro. Intanto buongiorno Carmen, buongiorno Salvo, grazie per aver accolto un uomo adulto all'interno della vostra scuola è sempre una grande emozione sedersi proprio in un'aula scolastica. Partiamo da un concetto importante, cioè in un momento così difficile e delicato dare la possibilità ad un ragazzo o ad una ragazza di imparare un mestiere e quindi prepararlo o prepararla ad un futuro migliore è una cosa importante. E questo è Eris Formazione. Assolutamente sì. Eris è una scuola di formazione professionale che permette in soli tre anni ai ragazzi che si iscrivono di conseguire una qualifica professionale. Noi formiamo i nostri ragazzi per diventare dei bravi parrucchieri, delle brave estetiste ma per diventare anche dei bravi elettricisti, dei bravi meccanici, dei bravi operatori grafici quindi degli esperti nel mondo del web, nel mondo della grafica e non ultimo anche dei bravi cuochi ma anche dei bravi operatori di sala e di bar, quindi dei ragazzi che un domani sapranno gestire un ristorante o comunque un luogo dove accogliere persone. I ragazzi da noi non trovano solamente scuola, non trovano solamente formazione ma un aspetto che io ritengo fondamentale è il fatto che i nostri tutor seguono i nostri ragazzi li seguono da un punto di vista scolastico ma li seguono anche da un punto di vista umano. I nostri ragazzi vengono supportati in questa particolare fase di crescita perché come sappiamo dai 13 ai 17 anni è il momento più difficile per la crescita di un ragazzo e i nostri tutor sono tutte persone formate proprio per supportare i ragazzi nelle difficoltà che quotidianamente incontrano. In questi giorni tra l'altro avete visto proprio lo spot di Eris Formazione all'interno della nostra trasmissione di Nuovo Insieme. Sarebbe bello portarvi anche Litterio Scalisi a scuola ma lui un mestiere lo ha già imparato perché è capo carriola, quindi lavora nel campo dell'edilizia. Scherzo ma è importante invece proprio in questi momenti così difficili e delicati parlare ai ragazzi di scuola e lavoro perché il vostro assunto fondamentale è proprio questo scuola più lavoro perché Eris Formazione è una vera e propria scuola dei mestieri. Assolutamente sì perché non solo formiamo i ragazzi ad un mestiere ma permettiamo loro, diamo loro la possibilità anche di avere già al secondo anno un contratto di lavoro, un contratto presso un'azienda, un contratto a tempo indeterminato che gli permette di lavorare e contemporaneamente studiare, formarsi e per tanti ragazzi è un'opportunità molto ma molto importante. Però ascoltando queste parole così belle che tu rivolgi ai nostri ascoltatori poi soprattutto i ragazzi sono quelli che magari seguono i social mi viene di pensare al fatto che proprio in un momento brutto come questo stiamo vivendo una pandemia mondiale, siamo in piena emergenza Covid-19 lanciare un messaggio di speranza che parte dalla scuola, da una scuola dei mestieri è fondamentale. Insomma diciamo ai ragazzi che in questo momento una scuola dei mestieri può dare anche una speranza in più per il futuro, anzi dà una speranza in più per il futuro. Sì certo è proprio così ragazzi perché imparare oggi un mestiere e impararlo bene vi aiuta e vi permetterà di essere pronti nel momento in cui arriverà la ripresa e quindi proprio per questo vi dico iscrivetevi ad Eris, scegliete la scuola dei mestieri Eris e costruite il vostro futuro. Voglio ricordarlo ancora una volta Carmen perché è fondamentale, vedo proprio qui i vari corsi da questa scuola si esce con un mestiere, si esce con un lavoro possiamo dirlo con certezza assolutamente? Assolutamente sì, frequentando Eris alla fine del terzo anno voi saprete in grado di mettere in atto, di fare un mestiere, un lavoro che può essere l'acconciatore, può essere l'estetista, può essere il cuoco ma può essere anche l'elettricista, il meccanico ci sono 22 corsi diversi, 22 percorsi a disposizione dei nostri ragazzi ogni ragazzo sceglierà quello per cui si sente più portato, più predisposto. Quindi cercate Eris Formazione, ci sono tutti gli indirizzi, tutte le possibilità proprio soprattutto in questo momento difficile e particolare glielo diciamo cuttutucori? Dai, facciamo così. Benissimo Carmen, ecco, chiudiamo anche questo intervento che abbiamo voluto fare proprio sui social per arrivare direttamente ai ragazzi ma anche alle loro famiglie, ecco, rivolgiamoci per chiudere ai genitori che magari giustamente sono preoccupati in questo momento perché non è facile per nessuno trovare degli sbocchi professionali. Io ai genitori voglio semplicemente dire di venirci a conoscere venire a conoscere la realtà Eris perché la realtà Eris è una grande famiglia e i genitori che sceglieranno di far iscrivere i loro figli all'Eris avranno fatto la scelta giusta perché i loro figli saranno mi permetto di dire accuditi e accompagnati come farebbe una brava mamma e un bravo papà. Come faresti tu? Che sei una brava mamma. Va bene. E io per un giorno sono contento di essere tornato a scuola. Va bene. Ero bravino a scuola, niente di che, però va bene, va bene così. Grazie, ringrazio la dottoressa Carmen Scandurra e ringrazio soprattutto Eris Formazione che ci sta accanto in questo momento. Un abbraccio con tutti i cori. Non perdere questa occasione. Chiamaci allo 095 28 81 614 090 92 26 789 091 51 46 17 o 091 89 45 188 Eris, la scelta giusta per il tuo futuro.